Io ho iniziato qui, avevo 18 anni, allenavo qui alla Falco, mi ricordo ancora che c'è il casottino di tenere i palloni che adesso è tutto in disuso, gli spogliatori non ci sono più, però è rimasto un campo stupendo in questo fossato, per cui anche abbastanza riparato dal vento e abbiamo messo qui i bambini più piccoli, quindi 2015, 2014, 2013 e 2012. Quindi cosa stai riproponendo? Gli allenamenti all'aria aperta? Tutti i ragazzi dei B sono stati convogliati in questo campo, quella è l'età, mentre invece al campo Nike abbiamo i bambini più grandi, quindi 2011, 2010, 2009, abbiamo preso due campi dove c'è l'illuminazione, quindi andiamo fino alle 6.30 con gli allenamenti, i bambini sono contentissimi, i genitori non te lo dico quanto ci hanno ringraziato. Ma io invece ti chiedevo, ma queste mamme che sono sempre apprensive, che proteggono sotto una bolla i propri figli, invece te li mandano liberamente? Sì, perché sono cambiate le cose, si accorgono che i figli si stanno ingrassando, si stanno impoltronendo, si stanno dando pigri, è una situazione che non va bene, anche le mamme si sono rimboccate le maniche, calza maglia, ginocchiera, cappellino, infatti anche il nostro abbigliamento cambierà da oggi in poi, non sarà più la t-shirt, ma sarà la maniche lunghe, il cappellino, lo scaldacolo, tutte cose che serviranno per giocare all'aperto, perché tanto se tutto va bene fino a febbraio-marzo si giocherà in queste condizioni. Ecco, Graziano, allora, orari, luoghi per chi volesse iscriversi ai BIS? Chi volesse iscriversi ai BIS va nel nostro sito Facebook dove trova tutti i numeri, pagina Facebook dove trova tutti i contatti, e qui al San Carlo, grazie alla disponibilità di Don José che ci ha dato il campo, abbiamo i bambini del 2015, 2014, 2013, 2012, mentre invece nei quattro giorni della settimana, iniziamo dalle 4 e mezza fino alle 6 e mezza, mentre invece al campo Nike dove c'è Nicola Morelli con gli altri istruttori, ci sono i 2011, 2010 e 2009, sono altri 6-7 gruppi di ragazzi che si allenano sono più grandi, quindi sono sempre tutti, cioè il 2009 mi ha impressionato perché su 40 bambini che abbiamo 39 si allenano.